If you wanna go then I'll be so lonely, if you're in baby let me down slow, let me down Il mio video è attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite che vi aspetto anche su Instagram Ma come al solito sotto nell'info box trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social E trovate anche i link di riferimento per quanto riguarda i prodotti di cui vi parlo oggi E anche in questo caso andiamo ad aprire una piccola box insieme per la skin care Sto diventando malata di skin care anche perché con i trattamenti giusti riusciamo ad avere una pelle bella, sana E anche con un'età un po' più avanzata come la mia che ormai vado per i 42 anni Oggi parliamo di questo kit, il set rivitalizzante di Hydro Face Questa è la box e va ad avere un'azione sulla pelle, di cura sulla pelle Quindi meno rughe, pelle visibilmente più liscia, idratazione profonda E la pelle è molto molto più luminosa e dentro ha ingredienti naturali che è la cosa più importante Quindi l'Hydro Face è un rinnovato set ringiovanente di due creme Quindi troviamo la crema lifting e restitutiva e la crema contorno occhi intensiva Se riesco ad aprirla Ok Eccoli qua, questo è il set e sono accuratamente combinati appunto per una complessa routine di cura della pelle Che dona un effetto visibile in pochissimo tempo Perché al suo interno, come vi dicevo, ha ingredienti naturali per un viso luminoso Quindi con i suoi ingredienti a base naturale e la formula leggera Hydro Face apporta un effetto rinfrescante per un aspetto radioso Ormai siamo tutte informate sull'importanza di utilizzare prodotti naturali per la nostra pelle E quindi con l'aiuto della natura, appunto, Hydro Face utilizza solo ingredienti naturali Come il bisabobolo per fornire una cura delicata alla pelle Sono stati approvati dermatologicamente e quindi sono state progettate con cura da dermatologi La crema da giorno e da notte di Hydro Face combina una delicata cura della natura All'efficacia dell'acido ialuronico per una pelle liscia e vellutata Questa è la crema Ha un odore buonissimo E' testata appunto nei laboratori di qualità per confermare appunto la sicurezza e l'efficacia del prodotto Questo è il contorno occhi Che è un 15 ml E la crema viso è un 30 ml E utilizzarle è semplicissimo Poi alla fine video comunque vi lascerò il video sull'applicazione dei prodotti Basta lavare delicatamente il nostro viso e asciugarlo con un panno morbido Poi usare la punta delle dita per applicare la crema Lift e Restore peptite Sull'area desiderate quindi possiamo metterla su viso, collo e décolleté Quindi applicare la crema contorno occhi sotto e intorno agli occhi E lavorarlo con un leggero massaggio circolare E fino al completo assorbimento E entrambe le creme si possono utilizzare due volte al giorno Quindi sono un unico prodotto per giorno e notte E una volta che i prodotti saranno completamente assorbiti dalla nostra pelle Potremo vedere subito e godere appieno dell'effetto rinfrescante dell'Hydro Face I principali vantaggi appunto di questi prodotti sono Che ha un ringiovanimento Quindi aiuta a levigare le linee di espressione profonde e anche le rughe Nonché a ridurre le macchie e anche quelle che abbiamo intorno agli occhi Ha un'azione di nutrimento profondo Perché al suo interno va ad arricchire la nostra pelle con le sostanze nutritive e vitamine Per un aspetto appunto più sano e giovane da subito La cosa buona di questi prodotti è che sono adatti a tutte le età e a tutti i tipi di pelle Quindi indipendentemente dall'età Hydro Face lavora per ottenere una pelle liscia, elastica e luminosa Quindi fantastico che non dobbiamo spendere troppi soldi Perché basta un kit per il giorno e per la notte E soprattutto per ogni tipo di pelle e per tutte le età Dopo come vi dicevo vi lascio il video dell'applicazione dei prodotti Così vi faccio vedere E vi dico anche le prime impressioni dopo l'applicazione Sul sito dell'azienda vi lascio il link sotto nell'info box Trovate un sacco di kit per avere i nostri prodotti sempre con noi A piccoli prezzi Quindi vi lascio il link sotto E niente, io ora vi lascio al video dell'applicazione dei prodotti Appunto Hydro Face Per una pelle giovane, bella e idratata Quelli qua Ringrazio l'azienda come il solito Per avermi dato la possibilità di provare questi prodotti Ecco il set rivitalizzante Hydro Face All'interno troviamo la crema per il giorno e la notte E il contorno occhi Dopo aver pulito per bene il viso Comincio con applicare il contorno occhi Prendo una piccola quantità del prodotto E picchiettandolo lo stendo su tutta l'aria del contorno occhi È davvero gradevole, non rinfresca e non brucia E poi applico la crema sul viso, collo e décolleté E appena applicata sentiamo subito una super freschezza E un'idratazione profonda della nostra pelle Davvero una bellissima sensazione Si assorbe in fretta E ha una consistenza davvero piacevole Una coccola per il nostro viso e per noi E soprattutto per la nostra pelle Che ne gode appieno da subito Non unge E ha un gradevole profumo Davvero ottima Mi lascio un codice sconto per voi E tutte le informazioni scritte nell'info box Mi raccomando Aprite l'info box per trovare anche il link del prodotto E acquistarlo con degli sconti dedicati a voi Meraviglioso questo set rivitalizzante dell'HydroFace Grazie a tutti 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 Grazie a tutti